Stato Maggiore ha messo sul sito, non vi lasceremo soli, quindi dopo questo striscione sarebbe il nostro desiderio subito a seguire le associazioni d'arma, perché la caratteristica di questa manifestazione è che attraverso le associazioni d'arma, quindi di categoria l'Onsi, l'Associazione Marinari, l'Ingeriere Fuoco, l'Associazione attraverso le quali militari in servizio, in pensione stanno manifestando e quindi è particolare, è atipica come manifestazione, quindi adesso dopo lo striscione le associazioni d'arma, i primi quelli militari, i sindacati di polizia, c'è la polizia penitenziaria, la polizia di Stato e poi tutte le associazioni, le associazioni civili, questo ci fa molto piacere perché questo significa che la città è vicino a dirà. Vi prego, vi prego soltanto una cosa perché sarebbe altamente sgradita, questa è una manifestazione che è a partiti che è a politica, tutto ciò che fa riferimento a partiti e a aspetti politici non è assolutamente credito e preghiamo assolutamente di allontanarsi perché non li vogliamo, quindi se ci sono barriere o tricioni che riguardano, fanno riferimento ad aspetti politici e partitici che si allontanassero. Poi vengono i politici a titolo personale, semplicemente a titolo personale. Naturalmente insieme allo striscione le istituzioni, se ci sono presenti, come sono presenti le ringraziamo, le istituzioni come anche la città di Ginosa, i comuni, quindi a seguire allo striscione principale. Vi ringrazio e se c'è qualche problema noi siamo onore. Un attimo, un attimo. Grazie. Grazie. se vuoi mettere avanti, li mettete dietro quando lavoriamo, non ti metto con il quadra forza dopo dai, non mi lasceremo solo, qualcuno di l'altro, si è cominciato prima per noi a seguire le associazioni d'arma per cortesia, quindi l'ANI, ci sono altre associazioni d'arma come l'ANI, dopo di che, prego, magari l'ANI può fare davanti, poi altre associazioni di sindacati di polizia e le associazioni civiche. Grazie.